E carissimi amici ed amiche, buongiorno a tutti per la nostra pillola quotidiana oggi di che cosa parliamo? Sapete qual è la nostra pillola quotidiana oggi? Sono delle immagini, questa è qua. Vedete? Questa è la pillola di oggi, il mare. Vedete? Non c'è bisogno che sia una bella giornata, il cielo è grigio come vedete, il mare è leggermente mosso, però a me manca tanto il mare quando non lo vedo per alcuni giorni. Questo è un posto dove, quando c'è un po' di tempo, vengo con degli amici, con familiari, vengo sempre con piacere, vengo sempre con piacere. Basta poco per essere felici, vedete? Basta un po' stare in questi posti così belli a contatto con la natura. A volte non ci basta niente, no? Quante persone vogliono questo, vogliono quello. Non c'è limite, non c'è prezzo, non c'è niente che possa soddisfare. Basta invece avere l'animo predisposto. Vedete? Nell'antica Grecia c'erano questi simpositi di grandi filosofi. E ricordo una volta che resti a un simposio di questi, dove ogni filosofo portava una sua idea, c'era un vecchio filosofo che è vissuto intorno al 500 a.C., si chiamava Biante, e lui non disse niente per tutta questa riunione, poi lo chiamarono a dare una sua testimonianza. Lui disse, io posso dire qualcosa sulla felicità. E cioè, se tu vuoi essere felice, disse, se vuoi essere felice, sii felice. C'è una predisposizione mentale, qualcosa che non serve avere, non è che sia legata a degli obiettivi che magari si susseguono uno dopo l'altro e poi la felicità non te la dà. Come pure il grande filosofo Lucio Anneo Seneca diceva, non cambiare il cielo sopra di te, cambia te stesso. Quindi per significare come non siano i posti a dare la felicità, ma l'animo umano. Per cui non serve dire, per essere felice me ne ando a fare un viaggio negli Stati Uniti, o in Olanda, o in Australia. No, certamente è bello viaggiare, certamente è bello vedere i vostri nuovi, ma non è quello che dà la felicità. Si può essere anche infelice in mezzo a una marea di persone, si può essere felice anche da soli, si può essere felice anche in questi magnifici posti dove, dove vedete, io vengo ogni tanto e qui certamente questa non è una spiaggia estiva, l'estate. L'estate è qua, piena di gente, adesso vedete così, un po' brulla, vedete anche da questo altro lato, non c'è niente, però è sempre bello. È bello, io me ne vengo qui ogni tanto, si mangia qualcosa, questo piccolo ristorante è proprio sul mare, e me ne vengo qui e godo di questi paesaggi, di questa serenità. Le onde del mare sono qualcosa di sorprendente, qualcosa di molto bello per l'animo umano, perché con la loro regolarità danno molta serenità. Ve lo consiglio. Certo, molti di voi non abitano in zone vicine al mare, ma per chi ha la fortuna di stare vicino al mare, quando avete qualche problema, quando vi sentite un po' malinconici, andate vicino al mare, guardate il mare senza pensieri, però, scombrate la mente dai pensieri, dalle preoccupazioni, guardate il mare, osservate la sua cadenza ritmica, respirate la sua aria, lo iodio, respirate il mare. Vedete che trova un senso di rasseneramento molto grande. quindi questo è il mio messaggio di oggi. La mia pillola non è legata oggi ad un evento, ad una notizia curiosa. No, è legata a questo. Oggi volevo chiudere dicendo che questa mattina, prima di venire qui a pranzo, ho incontrato un amico che ha qualche anno più di me e diceva io sono felice perché quando esco di casa, vedo la gente e cammino e mi sento in buona salute, già questo per me è felicità. quindi basta questo. Basta avere un po' di salute e basta godere delle piccole cose. Adesso prima di giuro vi faccio vedere soltanto una panoramica di questo localino sul mare molto rustico, non è che vado in questi grandi ristoranti gourmet con guanti bianchi, non è che mi piace mi piacciono le cose semplici. Qui c'è anche una scala che va sul solarium nel periodo estivo e quindi da questa immensità da questi spazi liberi io vi do la buona giornata e mi raccomando guardate il mare ed asserenatevi ricordatevi che per essere felici basta poco liberiamo la mente dai problemi da quelle cose che ci assillano perché noi pensiamo sempre le stesse cose liberiamo la mente e saremo bene. Ecco qua grazie scusate ho fatto un video un po' dovambolesco stamattina ma vi volevo rendere participi ecco di questa mia gioia di essere in questo posto in una giornata una giornata grigia non fa nemmeno freddo una giornata grigia ma che bello lo stesso un abbraccio a tutti quanti voi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti